Venditalia 2022 continua, si parla di vending anche quando si parla di Micromic, l'azienda laziale che riesce a distribuire in tutta Italia ricambistica per la distribuzione automatica, ce ne parla Flavio Ciappetti, membro del consiglio di amministrazione dell'azienda. Caro Flavio, benvenuto. Grazie Fabio, grazie a tutti quelli che vedranno questo video, ringrazio innanzitutto, diciamo che la Micromic vende in tutta Italia, in tutta Europa e si può dire anche nel mondo, ma diciamo che la cosa fondamentale è che non solo vende ma produce e vende ciò che produce, noi produciamo ricambi come tutti sanno per elettrodomestici da 40 anni, per il vending da 10 anni e ci vantiamo del fatto di produrre, delle nostre produzioni, della qualità, di riuscire a essere competitivi sui prezzi proprio grazie al fatto di produrre, di essere riusciti ad adeguare diciamo un'azienda che fondamentalmente vendeva grandi quantità ai grossisti anche a una vendita invece diretta al diretto interessato, siamo pronti, lo siamo sempre stati, lo siamo ancora di più, abbiamo adeguato il nostro magazzino, il nostro sito e-commerce a una vendita diretta quindi siamo pronti a vendere direttamente le nostre produzioni che ci tengo a dire sono specificate grazie a un simbolo sempre presente sulle foto del nostro catalogo, quindi il cliente sa quando compra, cosa compra e chi l'ha prodotto, ovviamente oltre alle nostre produzioni perché non possiamo produrre tutto, compriamo anche dei ricambi che rivendiamo sempre da produttori più che noti e che sono gli stessi che producono per il primo impiego quindi Ecco e questo naturalmente riesce a farvi dare ai vostri clienti un servizio di fornitura davvero estremamente completo Sì e soprattutto la Micromic appunto producendo può anche e lo fa diciamo concordare con il cliente la produzione ad hoc di alcuni articoli, può essere una produzione concessa in esclusiva, può essere una produzione per la quale il cliente che segnala l'articolo insomma sicuramente ha un trattamento diciamo particolare di rispetto ma comunque la Micromic che non fa solo diciamo tra virgolette compravendi ma c'è una partnership con il cliente che all'inizio magari può sembrare un pochino più lenta ma dopo dà dei frutti che altre collaborazioni potrebbero non dare. Un'altra nostra caratteristica è un tecnico interno dedicato con un numero di telefono aziendale che il cliente può chiamare quando vuole per qualsiasi consiglio, qualsiasi problema o qualsiasi cosa che voglia magari chiedere perché la collaborazione è quella su cui noi puntiamo innanzitutto. E allora Flavio molto brevemente quali sono le novità che a questo punto diciamo negli ultimi quattro anni siete riusciti ad includere nel vostro ampio catalogo che ricordiamolo Psi per il vending ha tanti prodotti e sono se ben ricordo poco più di 450. Ormai 600. Ormai 600. Questa è una prima miglioria ovviamente essendo produttori aggiungere degli articoli non è solo creare un codice ma è anche fare degli studi, produrre degli stampi quindi sicuramente ci vogliono dei tempi per fare le cose fatte bene. Uno dei progetti particolari che abbiamo fatto che è stato un progetto diciamo non solo utile alla vendita ma anche utile alla nostra formazione, abbiamo progettato e brevettato una fotocellula che consente a una macchina del vending non predisposta per la fotocellula e quindi magari di tanti anni fa di invece avere intercettare diciamo la tazza personale del cliente, applicare lo sconto al sistema di pagamento, tutto ciò senza passare per la scheda madre della macchina quindi senza avere nessun tipo di ipotetico problema col distributore stesso. Ci mettiamo di fianco ma la rendiamo anche se vecchietta diciamo all'avanguardia. Flavio dunque dicevo, stavo per dirti quali sono i prodotti di punta che hanno avuto maggior riscontro in questi ultimi 4 anni, periodo in cui ahimè, ahi noi non c'è stato un momento di incontro globale e dedicato con gli operatori della distribuzione automatica perché venditalia appunto non si tiene dal 2018. Noi questo periodo è stato particolare, non ci siamo però dispiaciuti, non ci siamo abbattuti, abbiamo sempre mantenuto rapporti con i nostri clienti anche tramite i nostri commerciali che sono sempre rimasti con noi e diciamo che è stato un periodo in cui abbiamo potuto studiare, migliorare la qualità, fare degli studi tecnici appunto sulla qualità e diciamo che io uso un termine improprio, sui consumabili chiamiamoli così, ossia sugli articoli che si cambiano ciclicamente anche quando non si rompono ma nelle revisioni programmate, negli interventi programmati noi stiamo andando molto bene, quindi nuclei, quindi canotti, quindi elettrovalvole anche complete, questo resistenza e questo è il nostro pane quotidiano e sono le nostre produzioni. Bene e allora visto che il catalogo è davvero molto molto ampio diamo a tutti loro un link a cui potersi collegare per poter riuscire a guardare tutti gli articoli che avete a catalogo sul sito specifico e un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per restare in contatto con voi. Un'ultima cosa Fabio che ho dimenticato io, mi scuso, un altro ampliamento diciamo di gamma, ma più di servizio che di gamma sono i kit, quelli per i visionari diciamo alcune parti delle macchine, non sono un ampliamento di gamma perché sono composti da prodotti che già facevamo, ma è un ampliamento di servizio perché il cliente trova il kit preciso che gli serve per rigenerare quella parte della macchina, quindi è un servizio che fa sì che il cliente possa ottimizzare i tempi trovandosi già tutti gli articoli pronti e imbustati in una sola busta per revisionare la macchina. Un'idea estremamente intelligente e allora indichiamo un indirizzo per il vostro sito che comprende naturalmente tutti i prodotti a disposizione dei gestori del vending e magari un indirizzo di posta elettronica per poter andare a contattare il vostro ufficio vendite e chissà trovare qualche vostro nuovo cliente. Allora www.micromic.com, area riservata, registrati se non siete già registrati o nome utente e password se siete già registrati, micromic.com è l'indirizzo mail. Ecco, registrandovi nell'area dedicata entrerete poi nella mecca dei ricambi per la distribuzione automatica. Flavio, grazie, sei stato cortesissimo e estremamente preciso anche sulla spiegazione di quello che occorre fare per poter accedere al catalogo completo. Grazie a te Fabio e grazie di nuovo a chi vedrà questo video e dedicherà un po' del suo tempo per ascoltare la nostra proposta.